Da questa mattina, marate di 19 gennaio, dalle 5 e 30, le forze di polizia sono impegnate nello sgombero della palazzina occupata in corso Giulio Cesare 45. Lo stabile del quartiere Aurora è occupato dal 2014 da una cinquantina di persone tra anarchici e stranieri. A tutti è stato eseguito il tampone per verificare un'eventuale positività al Covid. Gli anarchici hanno lanciato un appello sui social per essere raggiunti da altri e una ventina è giunto sul posto. Lo sgombero si è svolto, da quanto emerge, senza incidenti o momenti di tensione. Le famiglie straniere, alcune con bambini, verranno accompagnate in un percorso di ricollocazione abitativa. Subito dopo i gruppi anarchici sono partiti in corteo al grido basta sgomberi. Grazie. 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 Grazie.